Capitolo 9 Barili in libertà Il giorno dopo la battaglia con i ragni, Bilbo e i nani fecero un ultimo sforzo disperato per trovare una via di uscita prima di morire di fame e di sete. Si alzarono e arrancarono nella direzione in cui otto di loro su tredici che erano pensavano si trovasse il sentiero. Ma non avrebbero mai saputo se la decisione fosse giusta o no. Mentre quella sorta di giorno che c'era nella foresta cominciava ancora una volta a spegnersi nelle tenebre della notte, intorno a loro si accesero d'improvviso le luci di molte torce, come centinaia di stelle rosse. Ed ecco spuntare gli elfi silvani, che armati di archi e frecce intimarono ai nani di fermarsi. Inutile pensare di dar battaglia. Anche se i nani non fossero stati in condizioni tali da essere addirittura felici di venire catturati, i loro piccoli coltelli erano le sole armi che avessero e non sarebbero serviti a niente contro le frecce degli elfi che potevano colpire l'occhio di un uccello al buio. Perciò si illimitarono a fermarsi di colpo, si sedettero per terra e aspettarono, tutti tranne Bilbo, che infilò l'anello e scivolò lestamente in disparte. Per questo quando gli elfi legarono i nani in una lunga fila, uno dietro l'altro e li contarono, non trovarono né contarono l'hobbit. E nemmeno lo udirono o lo videro che trotterellava dietro di loro, alla luce delle torce mentre portavano via i prigionieri attraverso la foresta, i nani erano bendati, ma questo non faceva molta differenza perché neanche Bilbo, che dei propri occhi poteva far uso, riusciva a vedere dove stessero andando. E comunque né lui né gli altri sapevano da dove fossero partiti. Bilbo dovette mettercela tutta per riuscire a star dietro alle torce, poiché gli elfi costringevano i nani a camminare quanto più velocemente riuscissero a fare, e esausti e malconci com'erano. Il re aveva ordinato di sbrigarsi. D'un tratto le torce si spensero e lo hobbit ebbe appena il tempo di raggiungerli prima che cominciassero a passare il ponte. Da lì, dopo aver attraversato il fiume, si arrivava al portale del re. L'acqua scorreva scura, veloce e impetuosa sotto il ponte. La sponda opposta, un uscio imponente, chiudeva l'imboccatura di una grossa caverna scavata nel fianco di un ripido perdio. I grandi alberi scendevano fino alla riva affondando le radici nella corrente. Passato il ponte, gli elfi tolsero la benda ai prigionieri, ma Bilbo induggiò alle loro spalle, esitante. Non gli piaceva affatto l'aspetto di quella caverna e la decisione di non abbandonare i suoi amici la prese appena in tempo per sgattaiolare alle calcagna degli ultimi elfi prima che i due battenti del portale del re si chiudesse fragorosamente alle loro spalle. All'interno i cunicoli erano illuminati da una luce rossa delle torce e le guardie elfi che cantavano marciando lungo passaggi tortuosi, intricati e rimbombanti. Erano diversi da quelli delle città degli orchi, erano più piccoli, ma non si inoltravano troppo sottoterra e si respirava aria più pulita. In una grande sala dai pilastri scolpiti nella viva roccia il re degli elfi sedeva su un trono di legno intagliato. Sulla testa aveva una corona di bacche e di foglie rosse, poiché l'autunno era di nuovo alle porte. In primavera portava una corona di fiori di bosco. In mano aveva uno scettro di quercia intagliata. I prigionieri gli furono portati davanti ed egli, pur guardandoli con occhi severi, disse ai suoi uomini di slegarli, visto che erano lageri ed esausti. «Inoltre qui non c'è bisogno di corde», disse. «Nessuno può scappare dalle mie porte magiche una volta che sia stato portato dentro». Interrogò a lungo e minuziosamente i nani su ciò che avevano fatto, chiedendo anche dove fossero diretti e da dove venissero, ma riuscì a cavarne solo poco più di quanto aveva già saputo da Thorin. Erano scontrosi e furibondi e non facevano neanche finta di essere cortesi. «Ma cosa abbiamo fatto, re?» disse Balin, che adesso era il più anziano. «È forse un delitto perdersi nella foresta? Avere fame e sete e essere braccati dai ragni? I ragni sono forse bestie da voi allevate? Magari averli uccisi vi ha fatto infuriare». Ovviamente quella domanda fece infuriare più che mai il re che rispose «È un delitto vagabondare nel mio reame senza permesso. Dimentichi che siete entrati nel mio regno e vi siete serviti della strada fatta dal mio popolo? Non avete forse cercato per ben tre volte di attaccare e disturbare il mio popolo nella foresta? E non avete forse provocato i ragni col vostro chiasso e il vostro baccano? Dopo tutti i fastidi che avete provocato, ho bene il diritto di sapere perché siete venuti qua e se non me lo volete dire adesso vi terrò in prigione finché non avrete imparato un po' di buona educazione e di buon senso». A quel punto ordinò che ogni nano fosse messo in cella da solo e che gli fosse dato da bere e da mangiare ma non gli fosse permesso di varcare la soglia della sua piccola prigione finché almeno uno di loro non avesse acconsentito a dirgli tutto quello che voleva sapere. Però non disse che anche Thorin era suo prigioniero. Fu Bilbo a scoprirlo. Povero signor Baggins. Lungo e logorante fu il tempo che visse in quel posto tutto solo. Sempre nascosto, senza mai ardire di togliersi l'anello. A malapena usando di dormire. Ranicchiato negli angoli più scuri e più remoti che potesse trovare. Tanto per fare qualcosa si mise a girovagare per il palazzo del re degli elfi. Il portale era sbarrato dai battenti magici. Ma ogni tanto, se era svelto, il piccolo hobbit riusciva a avvarcarlo. Gruppi di elfi silvani a volte guidati dal re andavano di tanto in tanto a cavalcare o a caccio a fare altre cose nei boschi e nelle terre a oriente. Allora se Bilbo era molto lesto riusciva a scivolare fuori proprio dietro di loro nonostante fosse assai pericoloso. Più volte infatti rimase quasi incastrato tra i battenti che si chiudevano di botto dopo aver fatto passare l'ultimo elfo. Comunque non osava camminare in mezzo a loro per via della propria ombra e per quanto fosse esile e vacillante alla luce delle torce o per paura che lo urtassero e lo scoprissero. E quando poi usciva, cosa del resto non accadeva molto spesso, non combinava niente di buono. Non voleva abbandonare i nani anche perché non aveva proprio idea di dove andare senza di loro. non riusciva a tenere dietro agli elfi che andavano a caccia per tutto il tempo che stavano fuori quindi non scoprì mai le strade che portavano fuori dal bosco perciò non poteva far altro che vagare infelicemente nella foresta terrorizzato all'idea di perdersi finché non gli si fosse offerta la possibilità di tornare. Inoltre all'esterno aveva sempre fame perché non era un cacciatore mentre all'interno della caverna riusciva sempre in un modo o nell'altro a procurarsi di che sopravvivere rubando il cibo dalla dispensa o dalla tavola quando non c'era nessuno vicino. Sono come uno scassinatore che entrato in una casa non può più andarsene e quindi è costretto a razziare meschinamente la stessa casa un giorno dopo l'altro pensava. Questa è la parte più triste e tediosa di tutta questa maledetta estenuante e spiacevole avventura. Quanto mi piacerebbe essere di nuovo a casa mia accanto al mio bel fuoco.